Il ruolo dell'avvocatura nella Resistenza è stato al centro della presentazione a Palazzo Lascaris del libro L'alveare della Resistenza, la cospirazione clandestina delle toghe piemontesi 1929-1945. Il volume raccoglie il diario di Massimo Ottolenghi, avvocato recentemente scomparso, che combatte la dittatura e fu anche perseguitato dalle discriminazioni razziali, a cui si affianca la narrazione dell'avvocato Alessandro Re degli anni difficili del fascismo, della guerra e della resistenza, incentrata sui magistrati e avvocati piemontesi che si schierarono contro il regime. Dunque, questo libro è nato da un'idea dell'avvocato Ottolenghi di rendere omaggio al foro torinese, e quindi avvocati, magistrati, cancellieri, in quanto lui aveva un debito di riconoscenza verso chi in qualche modo aveva contribuito a salvarlo dalle persecuzioni razziali. E quindi si è partiti da una storia addirittura del 29, avvocati mandati al confino e magistrati mandati al confino nel 29 durante il fascismo per ripercorrere tutti gli anni successivi fino al 45, fino al 46, fino dopo la liberazione. Questo è stato il motore dell'iniziativa.